Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla montata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido, zucchero, aroma di vaniglia, uova e tuorlo e sale. Diamo il dia alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. Azioniamo il bimbi per 15 secondi, a velocità 10, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro, azionare il bimbi per 3 minuti, a velocità 3. Aggiungere l'uovo e il tuorlo, azionare il bimbi per 2 minuti, a velocità 3. Aggiungere la farina, il sale, l'aroma di vaniglia. Azionare il bimbi per 2 minuti, a velocità 4. Trasferire il composto in una sac à poche con beccuccia stella e formare biscotti. riporre in frigo per 30 minuti. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 13 15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare completamente prima di rimuoverli dalla teglia. biscotti di frolla montata. Grazie e alla prossima ricetta. grazie e alla prossima ricetta.